Ciao, in questo video vediamo il funzionamento di un blocco molto interessante blocco che ci permette di esportare in maniera digitale le costruzioni realizzate all'interno dei mondi Minecraft queste esportazioni tridimensionali possono essere utilizzate per realtà aumentata o pronti per esempio per essere dati in passo ad una stampante 3D in modo tale da permettere la riproduzione in maniera fisica delle nostre realizzazioni digitali vediamo insieme il funzionamento di questo blocco allora per accedere al blocco struttura possiamo prenderlo tra la scheda elementi in basso a sinistra se è il blocco struttura oppure possiamo digitare stru e come vedete il risultato è il nostro blocco struttura lo prendiamo, lo mettiamo nel nostro inventario corrente e possiamo incominciare a posizionarlo a terra tasto adesso sul blocco struttura, questa è la sua interfaccia vediamo che qui a sinistra ci sono delle coordinate x, y e z che rappresentano le dimensioni dell'area che vogliamo creare x, y e z che è lo slittamento vediamo adesso nel dettaglio cosa significano e come valorizzare questi numeri immaginiamo di voler esportare questo numero 1 il blocco struttura permette di costruire idealmente un cuboide che parte dal blocco struttura fino ad un certo punto, per esempio rappresentato da questo blocco rosso che mi permette di realizzare un cuboide in modo tale che venga contenuto al suo interno la struttura che vogliamo esportare andiamo a vedere con una rappresentazione grafica quello che cerco di dire a parole osservate il cuboide realizzato con i blocchi arancioni ed il percorso rosso creato intorno alla struttura verde che rappresenta il numero 1 la struttura che noi vogliamo esportare mi avvicino al blocco struttura, tasto destro e andiamo a vedere cosa stiamo facendo innanzitutto osservate questa rappresentazione tridimensionale il colore rosso è la X il colore verde rappresenta la Y, quindi l'altezza il colore blu rappresenta la Z a partire dal blocco struttura io ho selezionato un'area dicendo di andare avanti lungo l'asse rosso di 7 a destra di 9 in altezza di 10 e mi ha selezionato una zona che mi permette di contenere all'interno sicuramente la struttura del numero 1 ma in questo caso ho voluto anche contenere all'interno la rappresentazione del cuboide questo valore meno 1 ha detto di scendere di meno 1 a partire dal blocco struttura in questo modo sono riuscito a prendere anche la parte sottostante vediamo adesso un altro esempio la mia esigenza adesso è di esportare questa rappresentazione del numero 2 cosa voglio dirvi? guardate adesso il percorso dei blocchi rossi avanti, destra, in alto se io adesso mi metto a guardare il blocco struttura per esportare il numero 2 in questo caso è diventato il numero 5 io sto dicendo la stessa cosa vai avanti, vai a destra, vai in alto ma quando io clicco con il tasto destro e metto questi valori ho creato una grande area cosa succede? sto andando ad esportare la rappresentazione del numero 1 cosa significa questo? che per esportare opportunamente una zona in questo caso questa qui che sta in basso a sinistra rispetto al blocco struttura devo o operare opportunamente con lo slittamento o posizionare opportunamente il blocco struttura andiamo adesso a vedere il tutto con un secondo esempio il concetto di slittamento vogliamo esportare adesso la rappresentazione del numero 3 il blocco struttura è posizionato in questo modo praticamente il percorso giallo mi dice che a partire dal blocco struttura io mi voglio spostare in un certo punto affinché poi io riesco a delimitare un cuboide più opportuno vediamolo con un esempio tasto destro ho messo dei valori 10, 10, 10 meno 1 così scendo ma vedo che la rappresentazione del cuboide non riesco a contenerla proviamo adesso ad andare con per tentativi ho messo meno 10 mi sono spostato e comincio a vedere un qualcosa che è forse un po' più interessante proviamo ad andare avanti di qualche blocco per esempio 5 ok sta prendendo diciamo un qualcosa di più interessante adesso voglio salire di 1, 2, 3 blocchi quindi qua è meno 1 più 3 fa 2 ecco che sono riuscito a selezionare opportunamente con lo slittamento la zona di mio interesse eccoci davanti ad un'altra struttura che vogliamo esportare questa casa io posso selezionarla in base a diversi blocchi struttura solo che il fatto di non sapere come orientarmi per capire qual è la posizione migliore per esportare questa casa per esempio se io mettessi un blocco struttura qua ho comunque la possibilità di esportarla ma tendenzialmente è bene mettersi nel modo migliore per esportare la casa più velocemente e senza errori qual è questo modo per selezionare la casa perché se io considerassi per esempio questo blocco ok e io rimanessi in questa posizione è ovvio che io devo dire al mio cuboide di selezionare una zona che è in basso e a destra rispetto a questo blocco struttura ma se rispetto a questo stesso blocco struttura io lo guardassi da questa parte il cuboide deve andare in alto e a destra rispetto a questo blocco struttura e se io lo guardassi da quest'altro punto lo stesso cuboide deve essere in alto e a sinistra rispetto allo stesso blocco struttura ed infine la casa si trova in basso e a sinistra rispetto al blocco struttura quindi vedete che diventa impegnativo qual è la regola che ci può agevolare per esportare sempre e comunque in maniera facile la costruzione di nostro interesse la regola è questa ci dobbiamo mettere nella condizione per cui quando io avanzo la x avanza quando io vado a destra la z aumenta e quando ovviamente salgo la y sale questa è la cosa più semplice vediamo il tutto con un esempio innanzitutto dobbiamo avere sicuramente le coordinate abilitate come si abilitano le coordinate? tasto esc impostazioni scendo con la rotella ed ecco il nostro a coordinate deve essere abilitato torno indietro impostazioni riprendo il gioco ora con il tasto w io mi devo mettere nelle condizioni per cui quando premo il tasto w le mie x aumentino provo e non sta succedendo niente rimango sempre ad 80 allora muovo ruoto di 90 gradi e continuo questo test premo la w e vedo che le mie x stanno addirittura diminuendo a me è 75 74 73 quindi che significa? che se devono aumentare io devo ruotare di 180 gradi adesso io premo la w e le x stanno aumentando 84 85 86 ora devo essere sicuro che muovendomi a destra le z aumentino premo la lettera d che mi fa spostare a destra e in effetti vedo che le z stanno aumentando 84 85 ok una volta che mi sono messo in queste condizioni cioè se vado avanti la x aumenta se vado a destra la z aumenta per esportare in maniera ottimale la mia rappresentazione del numero 1 è sufficiente mettere il blocco struttura in basso e a sinistra cioè non lo devo mettere in alto e a destra rispetto alla rappresentazione che voglio esportare ma esattamente in basso e a sinistra della rappresentazione tasto destro posso utilizzare solo valori numerici 4 4 vediamo cosa succede meno 1 per prendere anche un po' di terreno salgo un po' perché ho tagliato il numero 1 ed ecco che la rappresentazione interessata riesco a prenderla facilmente io non posso utilizzare dei valori negativi meno 3 posso utilizzare per il dimensionamento soltanto valori positivi in questo caso 4 4 e 6 in altezza a questo punto posso andare a mettere un nome alla struttura che voglio esportare numero 1 scendo in basso con la rotella esporto mi chiede dove esportarlo salvo e il mio numero 1 è stato esportato andiamo a vedere adesso cosa possiamo farci sono andato ad individuare il file esportato a un'estensione glb tasto destro e lo apro per esempio con il visualizzatore 3D ecco il nostro oggetto tridimensionale posso guardarlo in tutte le dimensioni che voglio posso allontanarmi o zoomare la cosa interessante è che io posso selezionare e darlo in pasto ad una stampante 3D oppure aprirlo con Paint 3D e personalizzarlo vediamo se riesco a a cambiargli colore per esempio seleziono il mio oggetto lo ruoto di 90 gradi provo a cambiargli il colore per esempio questo bel rosa me lo ha colorato e adesso posso per esempio personalizzarlo con vediamo un po' con dei piccoli pallini ovviamente il nostro oggetto si presta ad essere modificato nella sua interezza salviamo il nostro oggetto tridimensionale e adesso vi faccio vedere un'ulteriore funzionalità di questi oggetti tridimensionali che poco prima erano in Minecraft apriamo un semplice powerpoint devo fare la mia tesina di matematica inserisco un modello tridimensionale da un file guarda caso il nostro oggetto tridimensionale e possiamo a questo punto portarlo all'interno della nostra tesina e nel powerpoint questo oggetto rimane accessibile tridimensionalmente tasto destro addirittura posso continuare a fare degli zoom e ruotarlo per permetterne la visione tridimensionale a chi sta assistendo alla mia tesina e questo rimane sempre all'interno di un powerpoint fatemi importare adesso un altro oggetto tridimensionale guarda caso è già pronto lo allargo in modo tale da poterlo anche esso ruotare e mettere facilmente all'interno della mia tesina lo ridimensiono e la cosa forte appunto è che l'oggetto rimane comunque accessibile tridimensionalmente anche con panoramiche interne ok ok questo è tutto spero che abbiate avuto modo di approfondire le potenzialità del blocco struttura il blocco struttura dunque permette di portare fuori da minecraft le realizzazioni digitali create dai nostri ragazzi possono essere stampate tridimensionalmente possono essere utilizzate in programmi come powerpoint per rappresentazioni tridimensionali e gli stessi oggetti possono essere utilizzati per delle app di realtà aumentata il tutto fatto però dai nostri ragazzi a presto e ci vediamo al prossimo video a presto